Si chiude con un pareggio in casa il 2015 dello Scordia, un 2015 sicuramente importante perché è arrivata la promozione anche se è con il ripescaggio in Serie D, stagione nel girone I della quarta serie cominciata male con grosse difficoltà ma lo Scordia ha intrapreso la strada giusta, la strada giusta per riuscire a centrare nel 2016, nel prossimo anno la salvezza. La piccola rivoluzione dicembrina voluta dal presidente Rosario Gallo che ha cambiato in pratica mezza squadra sta cominciando a portare i suoi frutti anche se non è arrivata la prima vittoria casalinga al Binanti ma solo un pareggio per 2-2 i rimonta contro un modesto Roccella. La prima occasione per i Roccella, punizione di Laribi deviata in angolo dal portiere Scordiense Vitti. Ancora Laribi su punizione serve in area dorato che realizza ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco. La partita è nelle mani del Roccella ma a passare lo Scordia. Laribi e il portiere Mittica non si capiscono e il retropassaggio del numero 2 finisce tra i piedi di Palmiteri che tutto solo non può che insaccare il gol del vantaggio Scordiense. Minuto 13, la partita si mette sul binario giusto per la squadra di Natale Serafino alla ricerca della prima vittoria casalinga della stagione. Il Roscella subisce il colpo e solo dopo 10 minuti riesce a riportarsi in avanti, ancora con una conclusione di Laribi, protagonista nel bene e nel male della partita dei Calabresi. Altra occasione al minuto 26, il colpo di testa di Coluccio finisce fuori. Preludio al gol che arriva puntuale alla mezz'ora, protagonista ancora Laribi, ancora su calcio di punizione dal limite. Questa volta però il pallone finisce in rete sul pallo del portiere. 1-1 e palla al centro. La risposta dello Scordia è il frutto di uno scambio Palmiteri-Calabrese e la conclusione del numero 11 è parata agevolmente dal portiere ospita. Segnali importanti per lo Scordia, che però prima dell'intervallo si distrae e subisce la seconda rete. Contropiede micidiale del Roscella, cross basso di Laveco e tapin vincente di Dorato. Partita ribaltata e Roscella in vantaggio all'intervallo. In avvio di riprese, Roscella spiore il gol con un colpo di testa di Cioffi, fuori di poco. Serafino inserisce Pascali e Ascione. Un colpo di testa di Palmiteri si avvicina alla porta di Mittica. Poi è vizia a salvare il risultato sulla palombella, sempre di testa di Sorgiovanni. La partita si infiamma. Maimone su punizione spiore il gol. Mittica si supera per deviare in angolo. Il Roscella decide di controllare. Lo Scordia ci prova, con il cuore più che con la tecnica. Ed è con il cuore che Ascione trova il gol del pareggio alla mezz'ora. Maimone serve al centro un pallone d'oro che Ascione non può sbagliare. 2-2 Scordia che comincia a credere alla clomorosa rimonta. Ancora Ascione protagonista. Tiro al volo a botta sicura e prodigioso intervento di Mittica. Ultima occasione per lo Scordia. Costretto dunque ad accontentarsi di un pareggio che almeno muove la classifica, anche se non risolve i problemi. La strada comunque è quella giusta e l'innesto dei nuovi acquisti dalle prossime gare potrà certamente invertire la rotta.